carissimi amici amiche una santa serata a tutti quelle che sono collegati in diretta e anche a chi ascolterà un indifferita un ben ritrovati a questo ciclo di catechesi sul catechismo di san pio decimo un ciclo di catechesi come molti sanno a me molto 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 caro perché ci introduce ecco nella nella quinta essenza ecco della della sana dottrina cattolica nella sua versione semplice ed immediata oggi c'è una gradevole dio incidenza perché è il compleanno terreno di san pio da pietra al cine oggi 25 maggio 2022 san pio al secolo nacque il 25 maggio del 1887 quindi oggi compie felicemente 135 anni di vita e sì e lui disse che non c'era stato papa più grande di san pio decimo ad essersi mai seduto sul soglio di pietro e lo disse nel 1968 quindi quando nel 68 o qualche anno prima quindi quando era papa o paolo sesto giovanni ventitresimo massimo non lo so se con i successori se successori di paolo sesto c'è di giovanni paolo secondo benedetto o francesco abbiano superato san pio decimo personalmente la mia convinzione personale è che al momento padre pio penso che confermerebbe questa 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 frase e ha ben ragione ecco perché per quanto mi mi riguarda non solo il capolavoro del catechismo ma anche tutta una serie di bellissimi atti di quel pontificato rimarranno alla storia e personalmente spero anche in futuro certo adesso siamo in un momento un pochino particolare che si possa rivedere qualcosa certo una cosa che penso oggi che se sappio decimo finisse oggi non credo che troverebbe una larga collaborazione nell'ambiente ecclesiale perché la mentalità che c'era la chiesa di oggi come dire è molto distante da quella che c'era a quel tempo e se in parte ci sono delle cose che nella chiesa evidentemente sono soggette a fluttuazione ossia semplicemente la cultura del tempo in cui vive la chiesa vive in mezzo agli uomini quindi è chiaro che risente insomma no sicuramente san pio decimo non poteva usare la diretta streaming per presentare il il suo catechismo però quindi a fianco diciamo così a questi evidenti come dire adattamenti della chiesa ma più che altro degli uomini di chiesa alle circostanze storiche in cui devono calarsi però rimangono come sempre sono stati nella chiesa dei voti capisali e dei punti fermi che non dovrebbero essere soggetti a fluttuazioni ma ahimè così non sembra nello stato attuale e peraltro proprio questa sera con l'incontro di questa sera vedremo che una cosa scritta chiarissimamente nel catechismo di san pio decimo oggi è scomparsa dal catechismo e non solo è scomparsa ma fior di teologi di commissioni comprese insomma quelle vaticane pur non avendo in sé come dire carattere magisteriale le loro affermazioni però comunque il peso dell'autorità di provenire comunque da una commissione istituita verso il vaticano insomma quindi si ha voglia a dire non c'ha voglia magisteriale quello è vero però ha detto certe cose e di quelle poi bisogna cominciare a tenerne conto ma facciamo quindi vedremo e noi preghiamo sempre il signore che che porta avanti dobbiamo sempre avere una grandissima fiducia in lui un grandissimo riposarci in lui la chiesa c'è è viva e nonostante si trovi in acqua un pochino turbolente il suo cuore diciamo la sua quintessenza continua a pulsare e speriamo che presto possa tornare di nuovo a risplendere e a brillare come vera luce delle genti certamente luce riflessa perché la luce è il signore ma che possiamo assistere ad una bella rinascita della chiesa tante cose belle che aspettiamo il trionfo del cuore immacolato di maria il regno della divina volontà il trionfo di gesù carestia quindi tante belle cose che mi raccomando nessuno può toglierci il desiderio o la speranza e quindi per carità fermi restando il rispetto e e tutto insomma a nessuno può essere impedito di desiderare e di sognare o anche insomma di averci le proprie idee e posizioni per più di qualcuno forse la chiesa come si dice di oggi è meglio di quella di san pio decimo io sinceramente qualche 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 perplessità a riguardo la nutro comunque adesso a prescindere da questo andiamo a vedere il contenuto della della sezione di oggi siamo nel capo quinto cioè la venuta di gesù cristo alla fine del mondo i due giudizi particolari universali diciamo che a roma domani si celebra l'ascensione credo che sia ancora così credo che siano diverse parti dove ancora si celebra l'ascensione nel giorno in cui cade comunque domani è quarantesimo giorno dalla risurrezione per cui è la ricorrenza dell'ascensione che in italia come sappiamo per motivi pastorali viene celebrata la domenica seguente no quindi il tema di questa sera ecco c'è un'altra piccola dioincidenza è particolarmente concluo e consono perché gesù ascende in cielo ma non per sparire per sempre parte il fatto che non è mai del tutto sparito perché rimane sempre con noi ma perché dopo questa sua uscita diciamo di scena da un punto di vista sensibile della sua umanità santissima giustamente glorificata tornerà e in maniera sensibile e visibile come diciamo nel credo nella gloria giudicare i vivi e i morti attenzione a mi raccomando queste sono verità di fede divina e cattolica queste non sono sciocchezze quindi non dubitiamo mai cioè quando oggetto di fede è una verità che non vediamo già essersi compiuta ma che attendiamo di compiersi nel futuro non sia mai è che l'attesa dice sia beh tanto sta cosa non succede mai quindi no no per carità è solo questione di tempo i tempi sono nelle mani del signore ma gesù ci sarà quel giorno noi quel giorno lo vedremo noi quel giorno lo vivremo allora andiamo subito a entrare nel nel merito 95 gesù cristo tornerà mai più visibilmente su questa terra risposta gesù cristo tornerà visibilmente su questa terra alla fine del mondo per giudicare i vivi e i morti ossia tutti gli uomini buoni e cattivo e cattivi quindi attenzione a questo particolare il catechismo un esempio decimo d'accordo con la tradizione della chiesa che ha condannato sia il millenarismo in maniera esplicita ma anche la forma mitigata del millenarismo questo lo dico perché in giro ogni intanto si sentono sempre cose un pochino particolari no afferma che la venuta visibile di gesù cristo sulla terra ci sarà solo alla fine del mondo d'accordo questo è un punto che noi dobbiamo ritenere di fede quando si parla di eventuali altre venute di gesù non dobbiamo mai concepirle stando a quello stando a quello che la chiesa ci raccomanda e ci propone come venute visibili è chiaro che tra la venuta nella carne e la farusia già questo perché se lo faccio per esempio nel tempo d'avvento c'è quella che si chiama la venuta intermedia di gesù cioè le molte forme con cui gesù viene a livello collettivo o personale nella storia ma una manifestazione visibile universale della sua umanità non è da attendersi non è come dire un dogma di fede assoluto cioè nel senso che se qualcuno dovesse dire che è possibile un alta moda di gesù sia ipso facto eretico perché le dottrine che l'affermano sono state condannate come pericolose non si può credere a questa cosa senza pericolo per la fede quindi cioè e poi dio solo sarà le cose sue insomma di tutto è possibile ma dobbiamo ritenere fino a prova palese e contraria che non ci sono altre venute visibili di gesù fino alla fine del mondo e questo ripeto non soltanto in forza del catechismo ma anche in forza perché il catechismo sintetizza evidentemente la rotina della chiesa di affermazione assai piuttorevole fatte nel corso della storia in sede di pronunciamenti magisteriali e questa venuta visibile è finalizzata al giudizio dei vivi e dei morti ossia tutti gli uomini buoni e cattivi ora 96 ma gesù cristo per giudicarci aspetterà fino alla fine del mondo risposta gesù cristo per giudicarci non aspetterà fino alla fine del mondo ma giudicherà ciascuno subito dopo la morte quindi ci sono due giudizi numero 97 ci sono due giudizi l'uno particolare di ciascun'anima e l'altro universale di tutti gli uomini fino alla fine del mondo però qui chiaramente il catechismo è sempre in forma molto molto il catechismo deve dare delle nozioni semplici chiare e distinte perché due giudizi momento che dio non fa mai non si ripete mai e non fa mai cose inutili quindi se ne ha fatto uno ne servono due come spiega questo lo spiega santo ommaso d'aquino dice attenzione il giudizio che avviene alla nostra morte e si chiama appunto giudizio particolare quindi è una cosa tra te e dio e non dobbiamo pensare evidentemente adesso poi comunque a una una corte d'assise il giudizio particolare questo l'ho detto da tante volte è semplicemente il momento in cui uscito dalla limitazione di questa terra tu in un istante perché l'operazione divine chi conosce la divina volontà sa molto bene sono istantanee in un istante con una chiarezza assoluta ti ripedi la tua vita con gli occhi dell'altissimo nella sua assoluta verità quindi tutto quello che di male fatto tutte le imperfezioni neanche minimi perché li vedi con una chiarezza assoluta tu stesso così come dio li vedi in ogni istante tu in quel momento non prendi coscienza e il giudizio è proprio questo prenderne coscienza e quindi comprendere perfettamente alla luce di quella che è stata la tua esistenza se meriti l'inferno il purgatorio o il paradiso punto facilissimo ma al giudizio universale attenzione perché al giudizio universale ci sarà una grandissima glorificazione della giustizia di dio ma saranno anche secondo il nostro comune parlare regolati tanti conti allora qui noi sappiamo bene che i discepoli di gesù se vengono accostati ingiustamente non possono difendersi non possono perché nostro signor si è difeso non possono rispondere con quindi con mezzi rendere pan per focaccia diciamo così a chi gli fa del male non possono molte volte vengono accusati perseguitati ingiustamente vengono tacciati come mezzi criminali quando invece davanti a dio sono buoni e qui non ci si può fare niente devi passare per mezzo criminale per amore del signore ma attenzione questo si è quel cioè per le anime buone il pensiero del giudizio universale porta grandissima consolazione tu ti trovi in una situazione dove per esempio stai servendo il signore sei moralmente certo che certamente pur nella consapevolezza dei nostri limiti quindi per carità e difetti però che stai agendo in maniera conforme alla volontà di dio però trovi bastonate critiche incomprensioni insulti oltraggi emarginazione accettalo per amore del signore un giorno verrà in cui chi ti ha marginato chi ha pensato male di te chi ti ha calunniato chi ti ha deriso chi ti ha disprezzato e davanti a tutti non soltanto tra te e lui ma davanti all'umanità intera cioè come era sta storia tu hai preso in giro disprezzato quello è un mio servo quello stava facendo la mia volontà e tu no e come ti sei permesso di di trattarlo in quel modo adesso sicuramente cioè queste sono idee mie non c'ho filo diretto no quindi però un qualche cosa del genere come dove quando noi dobbiamo aspettarci perché san tommaso spiega il giudizio universale è la glorificazione della giustizia di dio sia per i buoni che per i cattivi cioè i lupi in veste dell'agnello saranno sbugiardati davanti a tutti gli agnelli condotti al macello perché seguaci dell'agnello con la maiuscola saranno glorificati i lupi saranno trattati da lupi e questo davanti a tutti cioè quando una persona è come dire è angariata è tartassata lo avverte il desiderio come dire di una certa soddisfazione signora come come vorrei poter dimostrare che è così gli diamo una bella lezione no questo magari non sarà un sentimento soprannaturale però è insito nel cuore dell'uomo perché chiaramente in ultima istanza dipende dalla virtù cardinale della giustizia devi soltanto pazientare un po' nella fede perché tutte queste cose al giudizio universale escono fuori tutte quante tutte nil in ultum remanebit diceva la gloriosa sequenza del dis del diesire quid quid latet apparebit nil in ultum remanebit cioè qualunque cosa latet è nascosta sarà manifestata e nil in ultum remanebit non resterà niente di impunito pazientiamo specialmente quelli che sperano di trovarsi da una parte buona non diciamo la parte buona ma almeno una parte buona pazientino sopportino volentieri anzi siano vieti dice san pietro di soffrire oltragi di essere marginati di essere ritenuti un nulla ogni tanto uno si legge le litanie dell'umiltà del cardinal berri del valle che li fanno molto bene d'accordo il nostro onore più grande sarebbe che proprio ci considerassero i più grandi deficienti del pianeta terra o quello sarebbe proprio perfetta letizia dice dice san francesco lascia d'accordo perché questo ci dà un'occasione di esercitare enormemente la virtù terrogale della 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 fede della speranza della carità che quale parere ti interessa ti interessa quello che pensano gli uomini di te o ti interessa quello che pensa il signore perché la cosa importante è che se tu morissi oggi in un contesto dove tutti ritrattano male ti perseguitano ti caluniano ti giudicano pensano che sei scemo che sei retrogrado che sei medievale che sei integrale preconciliare d'accordo questa è un'altra è un'altra frase cult no la domanda da farsi è Gesù che pensa di me tutto sommato perché è chiaro che Gesù pensa di me che io sono un disastro totale questo lo sa questo si sa ma nel mio essere un disastro totale d'accordo il mio cuore la mia volontà cerca di stare all'unisolo con quella di dio o no cioè se mi presentassi tanto io dico signore mio potrei anche essere sbagliato completamente eh non ne parliamo proprio ma quello che ho fatto quello che sto facendo in coscienza l'ho fatto dinanzi a te per amore tuo pensando almeno di servirti di fare quello che tu volevi se tu stai in questa condizione state proprio tranquillo state di mani sempre aperto perché se veramente magari uno si stesse sbagliando il signore deve avere la possibilità di correggerci quindi dire su questa cosa magari orizzontati un pochino meglio no ma a giudizio universale i conti si fanno tutti quanti noi dobbiamo certamente sperare che i nostri avversari o i nostri nemici o chi non ci può vedere si come dire si salvi vada in paradiso vada molto più avanti di noi in paradiso eh vada pure dove c'è ottimo meraviglioso d'accordo va bene questo basti spero che sia che sia chiaro no è semplice anche la differenza tra i due giudizi di che cosa ci giudicherà Gesù Cristo 98? ha molto facile Gesù Cristo ci giudicherà del bene e del male operato in vita anche dei pensieri vedete le specificazioni e delle omissioni ecchi biblici no? non vogliate giudicare nulla prima del tempo egli giudicherà ogni cosa metterà nella luce e rivelerà i pensieri dei cuori si legge nella Sacra Scrittura allora ciascuno avrà la sua lode da Dio e te le di San Paolo e le omissioni tante cose che avremmo dovuto fare e non abbiamo fatto e tante cose che avremmo potuto fare e non abbiamo fatto mio vecchio padre spirituale diceva giustamente quando una coscienza comincia ad essere delicata si rende a te si capisce dal fatto che comincia ad essere attenta ai peccati di pensiero e ai peccati di omissione che generalmente non non ci si fa caso ma se tu impari a vivere alla presenza del Dio Dio un pensiero tuo lo vede e sei capace tu di relazionarti con Dio come dire a pensiero trasparente quindi nella consapevolezza che a lui i tuoi pensieri li vede e bisogna vedere se li approva oppure no punto interrogativo bene dopo il giudizio particolare che avviene dell'anima? facile facile anche qui pensate questi questi concetti no? avrete partecipato a un pochino di di funerari io spero che quando ero più giovane solo io le ho viste certe cose spero sempre la speranza è sempre l'ultima a morire questa è la versione positiva del proverbio poi c'è quella sarcastico ironica e amara cioè che chi di speranza vive e disperato muore spero che non sia mai ma molti funerali oggi sono canonizzazioni non autorizzate perché la canonizzazione viene fatta in Vaticano con l'ultimo atto che lo fa il Papa comincia nella diocesi quindi c'è tuttavanto una procedura ma non è che tu puoi canonizzare il primo che incontri insomma no? ehi se ne vuole insomma quindi devi dimostrare che ha praticato le virtù in grado eroico d'accordo? che si è scritto qualcosa tutto quanto conforme alla fede che è stato sempre in comunione con la chiesa che ne so che ha fatto il primo e il secondo miracolo uno diventa beato e uno diventa santo insomma no? quindi non è che pu pu ah ma ci stanno certi funerali che insomma chiunque sia il decuius quindi anche una persona che magari almeno esteriormente non ha dato prova di esemplarità nella vita cristiana perché se una persona a messa non ci va mai potrebbe anche essere una bravissima persona civilmente o vanamente parlando ma non è testimone esemplare di vita cristiana trovatemi soltanto un santo canonizzato che non andava a messa la domenica cioè quando i santi andavano a messa tutti i giorni quasi tutti d'accordo? se uno aspira a diventare santo certo se le circostanze gli impediscono di andare negli altri giorni diventi santo pure per la messa domenicale ma se non te ne impediscono insomma per diventare santo ci vuole grande grazia e quindi ci va a messa tutti i giorni tu c'è uno che non hai visto mai in chiesa da quando sei parroco da vent'anni e comincia allora preghiamo per il nostro parroco che tanto sta già nella luce di Dio sta già in paradiso dico ma ma che razza io mi ci metto pure io che io sono prete dico ma che razza di messaggi di amo alla gente tu fai una cosa così la gente che non è deficiente perché molte volte noi preti pensiamo che ci abbiamo davanti dei deficienti deficienti in senso etimologico cioè gente che non ragiona ma la gente capisce molto bene ah vabbè se questo se questo sta già ha detto il prete che sta davanti a Dio quindi a me se non ci andava mai che ce fa sta davanti a Dio l'avrà perdonato il nostro signore ha ammesso che sia una cosa grave cioè è evidente che chi assiste a una cosa di questo genere pensa a una cosa di questo se non salta dalla sedia e dice ma questo che dice allora il catechismo chiaro e distinto ad esempio decimo dice che dopo il giudizio è particolare l'anima se è senza peccato è senza debito di pena cioè non c'ha sulla coscienza peccati mortali né anche volontari né peccati volontari perché in paradiso il peccato non c'entra il peccato volontario e senza debito di pena cioè i peccati li ha già espiati tutti con la preghiera con il digiuno con l'elemosina e con l'accettazione almeno rassegnata e gioiosa di tutte le croci e le sofferenze che il signore gli ha mandato nella vita e che a questo servono fino a quando siamo in questo mondo detto proprio fra noi e tra me e voi questi vanno in paradiso se ha qualche peccato veniale o qualche debito di pena va in purgatorio finché abbia soddisfatto e se è in peccato mortale quale ribelle inconvertibile a Dio va all'inferno punto e basta chi muore in stato di peccato mortale va all'inferno chiaro? questo la Chiesa ha sempre insegnato tutte le cretinate che dicono che mi vengono certi nervi ovviamente nervi felici e nervi sereni perché se ne va a far turbare la pace dalle stupidaggini che dicono in giro l'inferno c'è non c'è dove sta dove non sta è pieno è vuoto c'è qualcuno non c'è qualcuno speriamo che non ci sia nessuno forse qualcuno c'è ma che razza di cose stanno dicendo in giro sarebbe bene chi dice queste cose qui che se lo ricordasse che esiste pure per lui il giudizio particolare e che risponderà non solo delle stupidaggini che ha detto ma del danno che ha fatto nei cuori che ha quelle stupidaggini ci hanno creduto che se ne vanno all'inferno appresso a lui oh e poi c'è un'altra situazione ecco qua quello di che accennavo all'inizio numero 100 i bambini morti senza battesimo dove vanno? penso che nell'introduzione dove vanno i bambini morti senza senza battesimo? i bambini morti senza battesimo vanno a limbo dove non è né premio sopranaturale né pena perché avendo il peccato originale quello solo non meritano il paradiso ma neppure l'inferno e il purgatorio il motivo è palese cioè la dottrina cattolica sul limbo che adesso è stata praticamente cancellata allora il limbo non è mai stato un dogma di fede d'accordo quindi era una dottrina comune un tempo io nelle presentazioni che ho fatto nelle catechesi sui novissimi anche quando insegnavo all'istituto di scienze religiose anche escatologia mostrai proprio agli studenti ma non possiamo noi liquidare il limbo in 4 e 4 8 nonostante quello che abbia scritto la pontificia commissione teologica che ho letto con molta attenzione e che alcuni passaggi li liquida in maniera molto molto frettolosa ma senza rispondere ai quesiti che certe dichiarazioni magisteriali pongono adesso non c'è tempo di approfondirla ma il discorso è evidente che li battezziamo a fare noi bambini cioè capite che dietro il rinnegamento del limbo per quanto mi riguarda ci sono dei problemi abbastanza seri perché significa tu ci credi ancora nella dottrina del peccato originale così come insegnata dalla chiesa cattolica e delle sue conseguenze io per esempio mi è capitato negli anni passati di se uno legge il rituale antico del battesimo quello che c'era prima della della riforma voi sapete che nel rituale antico di amministrazione del battesimo c'erano due esorcismi e il sacerdote stava in viola il battesimo non era tutto quanto amministrato vestito di bianco il sacerdote stava in viola fino a quando non arrivava il momento del passaggio cioè il padrino la richiesta della triplice rinuncia a satana si faceva ancora in viola quando cominciava credi in dio padrone potente cambiava stola e si metteva la stola bianca c'erano due esorcismi ma con dei termini terrificanti cioè io vi l'ho letto il testo lo può leggere chiunque basta che prenda un rituale del 62 se legge il latino li vede cioè sembrano le parole di un esorcismo non molto differenti dagli esorcismi rivolti verso gli ossessi perché ci sono delle intimazioni dirette contro il diavolo che gli viene intimato battene da qui maledetto esci subito da questo qui io mi ricordo quando tanti anni fa vidi questo dico a me è preso un infarto non è preso perché evidentemente cioè dico ma che è successo ma che non ci stanno più queste cose in giro non ci stanno cioè nel rituale del battesimo c'è l'orazione prebattesimale che dovrebbe diciamo uno dei due tenerli che sì ti preghiamo umilmente libera questo questo bambino dal peccato originale e tu se tu hai mandato il tuo figlio per liberarci dal potere delle tenebre ma a parte il fatto che è espresso in una forma di preghiera non di esorcismo sapete la differenza che c'è tra preghiera di liberazione e esorcismo la preghiera di liberazione è rivolta a Dio per chiedere la liberazione del paziente chiamiamolo così mentre l'esorcismo è un'ultimazione rivolta direttamente al demonio con l'autorità del ministro e dell'apostolo di Cristo che si rivolge imperativamente a lui nel nome del Signore non c'è più niente non c'è questo è un dato di fatto non è che voglio dire è così allora insomma qualche domanda uno poi se la fa se questo fosse dice ma no ma il bambino anche senza il battesimo la misericordia di Dio poi troverà il modo di salvarli ma nella dottrina cattolica sul limbo non è detto che uno debba seguire la posizione di Santo Ommaso d'Aquino che diceva che il limbo era eterno io per esempio non ho mai pensato che il limbo fosse eterno perché un bambino non battezzato che non ha colpe proprie poverino lui è un membro della razza umana è chiaro che tutti quanti siamo colpevoli in Adam ma appunto non vanno all'inferno né in purgatorio perché per andare all'inferno nel purgatorio ci deve essere una responsabilità personale ci deve essere una partecipazione personale al peccato non semplicemente un'eredità che tu acquisisci quindi sì è vero che nel limbo non si soffre ma è vero anche che nel limbo non c'è la visione beatifica che insomma non si gode può essere eterno una cosa di questo genere secondo me no ma quello che che scrive la pontificia commissione teologica in un certo senso io lo condivido cioè il signore troverà il modo è certo che lo trova il modo perché i bambini che stanno nel limbo e che non vengono fatti tirati fuori di lì e se uno ci crede che esiste c'è un sistema ci sono sistemi facilissimi per tirarli fuori di lì è molto più facile tirare fuori un bambino dal limbo che un animo dal purgatorio questo credo che ci arriviamo subito insomma no e quindi si sta lì ed è per questo che si battezzano i bambini perché si sta in questa condizione però non si hanno colpe proprie quindi che cosa succederà a mia modestissima parere succederà che quando il signore ritorna nel giudizio universale in quel momento tutti i bambini non battezzati andranno in paradiso però ci arriveranno per ultimi e non è la stessa cosa insomma arrivarci alla fine del mondo andarci subito e perché questo perché non lo fa subito perché la giustizia di Dio deve dimostrare in un certo senso deve far vedere che arrivano per ultimi perché nessuno si è peritato di fargli arrivare quello strumento che è il battesimo che non è un'opzione al battesimo anche le persone che si possono salvare senza essere battezzate e questo sappiamo che è vero perché non è che vanno in paradiso poverini una persona immagina una persona che senza colpa ignora la chiesa se ne andate pure non all'inferno per forza cioè non c'ha avuto la grazia di conoscere il Vangelo ma quando andranno in paradiso queste qui a mio avviso analogamente analogamente non è a mio avviso come dire verosimile pensare che un non battezzato quindi uno che non ha avuto questa grazia grande perché il battesimo cioè è il frutto immediato della passione e della morte di Gesù è il primo grande sacramento che svolga da lì ed è necessario per la salvezza non è un optional è necessario il battesimo per la salvezza ecco perché la chiesa ha sempre raccomandato di battezzare i bambini e di farlo il prima possibile come vedremo scritto qui se non l'abbiamo già visto adesso non mi ricordo perché il battesimo è necessario se non lo ha ricevuto non è che chi non l'ha ricevuto sta fuori in maniera come dire irreversibile no ma dovrà aspettare dei tempi di salvezza un bambino innocente qual è la differenza tra un pagano che magari fa fare opere buone secondo il dettalo della propria coscienza e un bambino del limbo che un pagano che fa opere buone secondo il dettalo della propria coscienza comunque come tutti espierà le colpe che deve espiare in purgatorio e rimarrà in attesa fino al giudizio universale un bambino non battezzato sapete quante persone hanno avuto un aborto spontaneo come facciamo ad andare in paradiso ma c'è stato un sistema che mi ha visto il più semplice è il più ovvio il più semplice di tutto cioè se tu hai avuto un aborto spontaneo quel poro ragazzino non è che non è stato battezzato perché tu non hai voluto ma perché tu non hai potuto allora che cosa fai? facendo una bella messa per un bambino non nato con quale intenzione? presenta il sacerdote l'offerta ecco non c'è bisogno che chi glielo dici perché admetto emoferentis allora signore questa messa è applicata per questa creatura perché attraverso il sacrificio della croce che si rinnova nel sacrificio caristico gli giungano quegli effetti del sacramento del battesimo che non ha potuto ricevere e conseguentemente da subito riceva la visione beatifica fine non occorre altro non occorre so che in giro stanno un sacco di cose i battesimi dei bambini non nati io non sono molto cioè da prete dico questa è la cosa più semplice che non occorre altro non occorre altro e chiaramente è bene che questa cosa la faccia il papà o la mamma perché per portare un bambino al fonte meglio ancora se tutti e due insieme perché perché un bambino si è battezzato c'è semplicemente bisogno che il padre e la madre diano il consenso e ci siano un padrino e una madrina oppure un padrino o una madrina che possano davanti alla chiesa professare la fede a nome del battezzato ed eventualmente conseguentemente anche passano da garante che quella fede che il battezzato riceve se non ci pensa nei genitori sia in qualche modo messa in condizione di poter essere sviluppata basta ecco perché il battesimo è così importante adesso come dire adesso c'è il silenzio quindi quel silenzio che sembra aver messo nell'oblio questa cosa ma spero che si sia capito dietro l'oblio di questa cosa sono coinvolte tutta quanto una serie di altre situazioni che non si possono liquidare con una botta di mano no ecco 101 che cos'è il purgatorio il purgatorio è il patimento temporaneo della privazione di Dio si chiama tecnicamente in teologia la pena del danno che era più tremenda e di altre pene che tolgono dall'anima ogni resto di peccato per renderla degna di vedere Dio si batte che in paradiso non si entra nemmeno se si è macchiati di una piccolissima imperfezione non purificata questo mettiamocelo bene in testa prima di canonizzare le persone dice quello è morto sta già in paradiso altre espressioni che io non ho mai condiviso mi dispiace è volato è morto mio padre è morto mio padre è volato in cielo io non gli dico niente perché è una persona insomma che c'ha un lutto che ti metti a D in diretta ma dico ma che ti è volato in cielo che è morto martire io glielo auguro non è che sono contento di queste cose qui no ma se uno si mette oppure è tornato alla casa del padre ma chi te l'ha detto che è tornato alla casa del padre sei sicuro cioè io è chiaro che non si augura a nessuno e se quello fosse andato all'inferno Dio non voglia ma come fa e Dio è tornato alla casa del padre ma con quale ma chi ci dà a noi questa autorità io mi chiedo di fare queste affermazioni di sostituirsi all'altissimo quando una persona muore si dica ha reso l'anima a Dio che è l'unica cosa sensata è possibile da dire perché è quello che accade veramente perché la morte è l'anima si separa dal corpo è quell'anima che Dio ti ha dato a te l'anima non coincide con le nostre facoltà razionali né con la nostra volontà è con le nostre facoltà intelligenti e con la nostra volontà che noi l'amministriamo la nostra anima perché decidere che cosa farci della nostra anima aspetta a te una persona che vive da troglodita diciamo così spirituale nel senso che non fa mai un'operazione spirituale non dice mai la preghiera sta lontano da tutto e si infogna in tutte quante le porcherie dei piaceri di questo mondo è una scelta questa qui quindi tu stai prendendo la tua anima e massacrandola e non so che amministrandola trascurandola al 100% la cosa più preziosa che c'hai e quando sarei mostrato una situazione che dice che c'hai fatto del talento che cos'è quel solo talento della parabola dicono tanti i padri della chiesa che comunque quello mette sotto terra è la tua anima è la tua anima la puoi mettere sotto terra l'anima o sotto i piedi quindi si rende l'anima a dio perché chi te l'ha detto che quello sta nella casa del padre o che è volato in cielo chi l'ha detto questo qui chi dice questo che c'è il filo diretto col padre eterno beato te beato te noi dobbiamo sperare che una persona si sia salvata anche se è una persona cara lo speriamo con tutto noi stessi ma non possiamo esserne certi e quindi cominciare a prodigarci come subito qui sarà giunto dal catechismo con le preghiere con gli suffragi con le indulgenze sperando che sia salvo perché mica è detto che sia salvo è inutile la faccia prende l'angoscia quindi speriamo però è anche inutile come dire tacitare la coscienza a quanta gente cioè ma io so parro chi è che sa meglio di me queste cose qui i funerali faccio io voi pensate che tanta la gente che fa continua a far celebrare regolarmente in parrocchia le messe per i propri defunti no non lo è c'è qualcuno che non fa dire neanche l'ottava e il trigesimo ve lo dico io questo è è il mio lavoro diciamo così quindi allora sono due le cose o capiscono niente e non ci credono ai suffragi oppure se pensano vabbè questo è morto questo è che a che serve la messa quei poveracci che stanno dall'altra parte non possono parlare più ecco e sai che bello i danni che si fanno non dicendo certe cose non parlando più di certe cose si fanno danni enormi alle anime dei presenti cioè di quelli che stanno qui e alle pure le anime dei trapassati ogni resto di peccato prende la degna di vedere Dio davanti a Dio arriva solo la perfezione assoluta e non cominciare a dire stupidaggini ah non esiste la chiesa dei puri la chiesa dei perfetti ma che discorsi so questi qua in paradiso non entra nulla di impuro sta scritto nel libro dell'apocalisse grosso così Dio è perfezione assoluta neanche un granello un trattino uno iota capito ma la chiesa è la gerusalemme celeste che scende da Dio ma chi sono questi sono tutti quanti purificati sono tutti quanti strasanti tutti la chiesa è santa per questo modo perché noi diciamo che la chiesa è santa qui non sono tutti i santi quelli che fanno parte della chiesa ma la chiesa è santa perché la sposa di Cristo quella che si vedrà proprio quando Gesù ritorna lì ci stanno solo i santi sono tutti i santi perché sennò davanti a Dio non ci puoi stare se non sei santo come Lui chiaro questo qua no Dio ma ci stiamo tutti qua cioè in questo mondo cioè siamo ancora imperfetti siamo in cammino però attenzione entro certi limiti noi assistiamo adesso a certe robe cioè che un battezzato un tempo vivesse come devono certi battezzati da adesso cioè a peccati mortali a rota libera ma i primi cristiani basta vedere lettere di San Paolo questi c'hanno tutti molti di questi modernissimi c'hanno il mito della chiesa primitiva e fatta leggere come si chiamavano i primi cristiani ai santi che sono nella chiesa si chiamavano santi tra di loro vi saluto con il bacio santo e vivevano da santi ci provavano almeno e la santità dei cristiani ha fatto cadere la corruzione dell'impero romano e ha conquistato Roma non con la violenza non con le armi ma con la testimonianza di una vita cristiana esemplare ma ste cose dobbiamo dirle 102 possiamo noi soccorrere anche e anche liberare le anime dalle pene del purgatorio certo che possiamo soccorrere e anche liberare le anime dalle pene del purgatorio come? con i suffragi ossia preghiere indulgenze elemosine e altre opere buone soprattutto con la santa messa ste cose bisogna saperle io per esempio quando potevo in parrocchia lo facevo sempre adesso qui in questo contesto qui in questo contesto molto molto differente un piccolo paesino capite che ci stanno delle mentalità un pochino particolari ma quando ero in parrocchie cittadine io ai funerali sempre io non passo mai con le offerte per le quest o nei giorni feriali mai fatto in vita mia d'accordo? mai però il giorno del funerale dicevo guardate facciamo una raccolta di offerte ma non perché a me me ne porta niente dei soldi cioè metteteci questa intenzione anche un centesimo non fa niente però dite faccio una piccola lemosina in suffraggio di questo defunto quelli che scrivono non fiori ma opere di bene fanno bene che lo compri a fare i fiori dai 20 euro a ma che ne so a un'organizzazione che fa l'adozione a distanza dei bambini e digli questi sono per l'anima di tizio questi sono atti di fede che lo compri a fama i fiori che tra tre ore sono passiti le preghiere l'eterno riposo il rosario le indulgenze acquistare le indulgenze per i cari defunti fai mezz'ora di adorazione al santissimo sacramento c'è l'indulgenza plenaria applicabile per i fiori o per i defunti dal 2 all'8 novembre con la visita al cimitero le opere di carità verso i defunti sono delle opere più grandi di tutti perché le anime che stanno in purgatorio non si possono aiutare da sole se qualcuno non le aiuta come dice Gesù nel Vangelo quelle staranno lì fino a quando non hanno pagato con ogni debito con la divina giustizia fino all'ultimo spicciolo si legga la vita di Santa Margherita Maria della Cocca che era devotissima dell'anima del purgatore ha mandato o Santa Veronica Giuliana hanno mandato milioni di anime in paradiso con le preghiere con le penitenze e con le opere buone che hanno che hanno fatto ma chi ci pensa oggi anche tra i cattolici ma nel cristianesimo pratica queste cose noi non possiamo sta a parlare soltanto di questioni sociali e che ne so politiche anzi meno se ne parla per quanto mi riguarda è meglio è la nostra fede è questa noi pensiamo a ste cose non pensiamo alle altre e soprattutto con la Santa Messa non c'è opera più grande che far celebrare una Messa in suffraggio di qualcuno e attenzione questo fate come vi pare non è bene far celebrare la Messa per quattro persone insieme fai celebrare quattro messe e se ci stanno i minestroni in giro che non si possono fare adesso non voglio parlare di questo basta andare sul web e andate a leggere come è la disciplina della Chiesa messe collettive tuttora valide sono quelle norme solo che adesso i fedeli vogliono per forza sentirsi dire il nome ad alta voce il giorno che gli pare a loro poi ce ne stanno altri 20 vicino ma tanto il parroco ha detto che va bene lo stesso il parroco non può dire una cosa può anche dirlo a volte poverini sono massacrati io conosco parroci che hanno perso parrocchiani per questo motivo hanno cambiato parrocchi perché c'era un giorno X dove c'era già un'intenzione e quello ha detto metti anche il nome mio dice guarda si può fare due volte a settimana in questo giorno no lo facciamo in questo o in quest'altro giorno via cambiata parrocchi è andata altrove c'era qualcuno più compiacente gli ha fatto il suo minestrone e quella ha cambiato parrocchi l'intenzione della messa secondo l'antichissima tradizione della Chiesa non è cumulabile quel particolare frutto che spetta al celebrante per questo che si lascia un'offerta come opera di elemosina ma anche perché il sacerdote accetta come dire di dare alla tua intenzione quel potere che lui ha per sé e che potrebbe applicare per la madre per il padre per lo zio per il fratello per la sorella d'accordo perché è una cosa che spetta a chi la celebra la messa e l'importante è che la messa sia celebrata con quell'intenzione da chi la celebra che il nome sia detto alta voce non fa niente nella messa al rito antico il canone era recitato in segreto nessuno sentiva nominare i nomi dei defunti ma tu sta tranquillo che se al parroco gli dicevi dimmi la messa per Francesco quello te lo diceva e te la diceva solo per Francesco quindi le messe si celebrano per una intenzione e dentro questa intenzione non cumulare neanche nella stessa intenzione non è l'ideale nella prassi se voi parlate con i predi di un tempo prendevano un'intenzione con un nome basta una al giorno ecco perché c'erano anche tante 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 più messe che era molto meglio per quanto mi mi riguarda mi ha quasi finito è 103 è certo che esistono il paradiso e l'inferno o è certo che esistono il paradiso e l'inferno certo più certo che 2 più 2 fa 4 il paradiso e l'inferno non solo il paradiso e l'inferno chissà lo ha rivelato Dio e spesse volte promettendo buona e l'eterna vita e il suo stesso caudio e minacciando ai cattivi la perdizione del fuoco eterno quante volte Gesù nel Vangelo ha minacciato l'inferno ma che ce lo vogliamo mettere sotto i piedi vogliamo 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 dire che Gesù parlava bambera questo vogliamo pensare o che diceva stupidaggini o che faceva il terrorista se uno minaccia l'inferno fa il terrorista spaventa le persone Gesù lo pensano un sacco di volte nel Vangelo chi c'ha la Bibbia vada a cercare Jane fuoco della Jane e guardi quante volte Gesù lo cita o poi ci sta un'altra piccola cosa perché qualcuno dice che l'inferno si ma ti pare che Dio lascia uno eternamente dannato soffrendo senza fine per tutta l'eternità 104 quanto durerà nel paradiso e l'inferno il paradiso e l'inferno dureranno eternamente chiunque minimizza anche la tragedia dell'eternità dell'inferno fa un danno enorme perché chi scherza col fuoco e poi si brucia ma voi immaginate io adesso non voglio dare una tinta drammatica a questa voi immaginate un dannato che fino a quando stava sulla vita della terrena faceva lo splendido ma sì ma tutte frescacce le fole inventate dall'inferno ma figurate andava a caccia delle streghe che stavano nel medioevo ma magari trova pure il diavolo con le corne e col porcone no questo muore e si ritrova all'inferno e in un attimo quella famosa frase del nostro grande poeta lasciate ogni speranza voi che entrate se la ritrova davanti ma a quel momento è troppo tardi voi immaginate la disperazione assoluta che può prendere è la fine non ci può fare più niente terrorismo ma sicuramente i dannati lanceranno tante di quelle stramaledizioni anche a tutti quelli compresi speriamo che non ce ne siano ministri dell'altissimo che si sono messi a giocare a scherzare a giochicchiare a minimizzare a quisquiliare e quindi te possino glielo dicono i dannati te possino ammazzare i dannati lo dicono e come è se almeno mi avessi avvertito o no ecco la schiettezza e la semplicità facile facile del catechismo ma ste cose qui vanno tenute considerate riposte e fermamente credute per il nostro bene perché le verità di fede sono verità di fede liberissimo di non crederci perché il nostro Signore non forza nessuno ma attento bene a ponderarne le conseguenze bene ci vediamo se ti vuole il mese prossimo e che Dio vi benedica e la Madonna vi protegga